Quante nazionali sono rappresentate quest'anno nella rosa del Novara? Sette. Dieci. Undici. Dodici. Bravo. Porca miseria. Un punto. Quindi la seconda per Urso. Quali di queste dodici non faranno i mondiali? L'Italia. Italia-Senegal. Italia-Romania. Italia-Canada. Italia-Romania. Bravo. Partiamo. Urso. Dove si svolgeranno i mondiali 2022? Qatar. Cailoti. Quale sarà la prima partita di Qatar 2022? Qatar. Bravo. Che figli. Venezuela. Colombia. 2-1. Urso. Miglior marcatore dei mondiali. Non è Ronaldo? No. Loti. Bravo. Questo lo contiamo perché... Clamorosa questa. Bravo. Cailoti. Quale squadra ha vinto più mondiali? Brazil. Bravo. Che giornato. Urso. C'è un giochino qua. Quale tra queste è la bandiera del Senegal? A, B o C? B. Bravo. Troppo preparati ragazzi, eh? Cailoti. Di quale nazione è questa bandiera? Casta Riga. Urso. Due nazionali che hanno una divisa al colore bianco. Ligia. Sì. Tempo scaduto per me. Tempo scaduto. Senegal, Iran, Stati Uniti, Argentina. Argentina e Polonia. E che non ti non sapeva. Argentina. Argentina è blu, celeste e bianco. Due che hanno una divisa... Nella divisa al colore bianco. Scaduto il tempo. Cailoti. Pensavo solo bianco. Tre nazionali che hanno una divisa al colore rosso. Spagna. Marocco e Danimarca. Bravo. Mamma mia. Urso. Miglior risultato ottenuto da Danimarca ai mondiali. Bravo. Semifinale. Semifinale. Quarti. 1998. Cailoti. Miglior risultato ottenuto dal Marocco. Quarti. Tantale. No, io ho sperato. Urso. Chi è questo giocatore? Akimi. Cailoti. Chi è questo giocatore? Erso. Urso. Uno dei due convocati da Danimarca che giocano in Italia. Maele. E l'altro? Lo sai? Sente. Oilund. Chi è? Andava bene uno lo stesso. Andava bene. Cailoti. Uno dei tre convocati dal Marocco che giocano in Italia. Amorabat. Gli altri li sai? Sabiri. Che bia. Bravo. Ragazzi. C'è Cailoti per me. Puoi andare anche tu ai mondiali. Urso. A che età Omar ha indossato per la prima volta la maglia della nazionale? 15. 19. Cailoti. In quale città danese è nato Oliver? Scusa. 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 Urso. Chi ha segnato la rete del pareggio per l'Italia nella finale dei mondiali 2006? Materazzi. Cailoti. Mentre il rigore decisivo per diventare campioni del mondo? Grosso. Devastanti. Esso, un'ultima cosa. Il vostro pronostico sul mondiale, chi è la favorita? Io vorrei dire... Brasile. Brasile. Anche per me in Brasile. Qua se l'ha vinto, no? Se l'ha vinto Omar, eh? Se l'ha vinto Omar, eh? Se l'ha vinto Omar. Se l'ha vinto Omar. Se l'ha vinto Omar. Se l'ha vinto Omar. Grazie a tutti